Guardando la piazza San Pietro, io vorrei ricordare alle comunità cristiane che mi ascolteranno la bellezza della preghiera per i sacerdoti e per le vocazioni. Ecco, nella mia storia di sacerdote e di vescovo, ecco, do questa testimonianza oggi quando visito le comunità, quando incontro i fedeli, prima della benedizione finale, ricordo sempre alla comunità che ha celebrato con me, ecco, vogliate bene ai sacerdoti, sosteneteli, confortateli, correggeteli e pregate per loro. E vedo che la comunità si accende come di una gioia interiore, ecco, perché oggi le comunità sentono la necessità di avere dei buoni sacerdoti, solleciti del loro bene, che visitano i malati, che partecipano ai momenti di festa e di dolore. Ecco, la preghiera per i sacerdoti è veramente un tesoro che dobbiamo sempre, sempre più valorizzare. e il Signore ci ha detto che il padrone della Messe ascolta questa preghiera per i futuri ministri che lavorano al servizio del popolo di Dio. Pregate per i sacerdoti, pregate per le vocazioni.